Ciao a tutti, vediamo 5 motivi per cui stare con un narcisista ti rovina la vita. Allora, il primo motivo, intanto prima iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, il primo motivo è che non apprezzerà tutto ciò che tu farai per lui o per lei, cioè non verrà apprezzato, non verrà neanche preso in considerazione. Secondo motivo è che farà di continuamente, ti farà gaslighting, facendoti passare per pazzo, enfatizzando quelli che sono i tuoi errori ed evidenziando solo quelli fondamentalmente. I tuoi errori verranno evidenziati al massimo. Terzo motivo è che continuerà come una sanguisuga, diciamo così, a chiederti sempre di più, sempre di più, senza mai darti, diciamo, nulla in cambio. Altra cosa ti farà perdere la percezione del tuo io, cioè ti farà entrare in un mondo, in un mondo strano in cui nulla è più come prima e tu troverai normale l'affossare e il distruggere la tua dignità e questo è veramente un grave danno. Altra cosa è che ti farà sentire in colpa per essere felice. Questa è un'altra cosa che i narcisisti spesso fanno e per questo ti rovinano la vita, insomma ti farà sentire in colpa di essere felice. Ecco, questi motivi sono cinque motivi per cui stare con un narcisista sicuramente, tassativamente, ti rovina la vita. Quindi sai che fai con un narcisista, chiudi immediatamente la relazione perché veramente non ne vale la pena. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!